Istituto Superiore Archimede di Napoli vi aspetta il 25 gennaio. Venite a scoprire i nostri indirizzi. Amministrazione, finanza e marketing. Sistemi informativi aziendali. Turismo, costruzioni, ambiente e territorio. Grafica e comunicazione. Liceo artistico e indirizzo grafica. La novità delle classi college ad orientamento calcio. Open Day 25 gennaio via Salgari 8 a Napoli. IsisArchimede.it